Oggi vi propongo la focaccia alle cipolle, facile, veloce ma soprattutto buonissima. Se provate questa ricetta mi raccomando lasciatemi un commento, ci tengo tantissimo alla vostra opinione. Vi lascio così alla videoricetta, mi raccomando vi aspetto anche su Facebook. 50 ml di acqua naturale, 10 g di lievito di birra fresco e 2 cucchiaini di zucchero semolato. Sciogliete bene il lievito, poi prendete una ciotola e versate 500 g di farina. Vi serve una farina forte, potete utilizzare anche la farina manitoba. Create il classico vulcanello, versate il lievito all'interno che avete sciolto e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Versate poco per volta 250 ml di acqua naturale. Una volta che avete versato tutta l'acqua, versate anche 10 g di sale. Quindi passiamo il nostro impasto nella spianatoia e incominciamo a impastare il tutto. L'impasto si presenterà appiccicoso, ragazzi la consistenza è quella giusta. Quindi impastate e date forma al vostro panetto. E poi versate un cucchiaio di semola rimacinata di grano duro e mettete l'impasto sopra così non appiccica la spianatoia. Dopo 30 minuti di riposo dobbiamo realizzare delle pieghe. Quindi dobbiamo proprio avvolgere il nostro impasto come vedete così nel video. Eccolo qui. Dobbiamo chiudere l'impasto in questo modo, realizzando queste pieghe. Una volta che abbiamo attorcigliato, per così dire, il nostro impasto su se stesso, il nostro impasto è pronto. Quindi prendiamo una ciotola, ungiamo la ciotola con olio extravergine di oliva e mettiamo l'impasto all'interno. Apriamo con pellicola, mettiamo un canovaccio pulito e mettiamo dentro il forno spento con luce accesa. Ovviamente prima tagliamo il nostro impasto come avete visto nel video e dopo due ore il nostro impasto è ben lievitato. Prendiamo una teglia con carta forno e se avete una buona teglia antiaderente potete non mettere la carta forno. Versate l'impasto all'interno, come vedete è ben lievitato, e con le mani stendiamo il nostro impasto. Una volta che abbiamo steso benissimo il nostro impasto, mettiamo un canovaccio sopra e conserviamo dentro il forno spento con luce accesa. Favoriamo così un'altra lievitazione di un'ora, quindi facciamo lievitare per un'ora. Dopo un'ora possiamo infornare la nostra focaccia. Nel frattempo che la nostra focaccia sta lievitando dentro il forno, prepariamo le cipolle. Io ho utilizzato circa 700 grammi di cipolle. Tagliamo le nostre cipolle e poi le condiamo con olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero macinato. Una volta che abbiamo dato una bella mescolata alle nostre cipolle, è passata un'ora, quindi possiamo uscire la nostra focaccia dal forno. Ungiamo le mani con l'olio extravergine d'oliva, quindi stendiamo un po' di olio su tutta la focaccia e andiamo proprio a immergere le nostre dita dentro la focaccia e poi mettiamo tutto il nostro condimento, quindi le nostre cipolle condite. Infornate la focaccia con un forno preriscaddato e ventilato a 190 gradi per circa 25 minuti. La cottura può variare da forno a forno, quindi ragazzi fate attenzione alla cottura, perché come sapete ogni forno funziona in modo diverso. Se avete tempo potete dimezzare la dose di lievito fresco e raddoppiare i tempi di lievitazione. Se preferite usare il lievito di birra secco, utilizzatene 4 grammi e aggiungetelo alla farina invece di scioglierlo nell'acqua. Io ho utilizzato le cipolle bianche, ma potete usare anche la cipolla di tropea. Se invece volete utilizzare la cipolla rossa, consiglio di non metterla cruda, ma di farla stufare 10 minuti in padella con un cocchiaio di olio extravergine d'oliva. La focaccia con le cipolle è buonissima, sia calda che fredda. Provatela e se la provate lasciatemi un commento. Che dirvi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando iscrivetevi nel mio canale YouTube Cartesia e attivate la campanella, perché se attivate la campanella ogni volta che pubblico un video vi arriva subito la notifica e quindi non perderete più neanche una videoricetta super golosa. Ragazzi, sul mio canale troverete tantissime videoricette. Tanti video anche sul fai da te e i rimedi naturali. Vi aspetto anche su Facebook, su Instagram oppure su TikTok, sempre come ricette golose di Cartesia. Adesso vi mando un bacione grande grande e aspetto i vostri commenti. Se vi piace il video, mi raccomando, lasciate un bel like e condividete la ricetta con i vostri amici. Ciao, alla prossima. Baci da Cartesia. Ciao, alla prossima.